Fratelli e sorelle, religiosi e religiose qui presenti, fratelli e sorelle che ci accompagnano per la TV Telepace d'Italia e per il Christian Media Center della custodia di Terra Santa. In Gesù troviamo tutto, troviamo il psicologo, il pedagogo, troviamo in Gesù tutto. Forse Gesù non fa il politico, dal Vangelo che abbiamo appena ascoltato Gesù è molto chiaro, non fa propaganda politica. Nel tempo delle elezioni, come abbiamo avuto anche qui a Nazareth e altri posti, noi troviamo tante promesse, promesse interessanti tante volte. Alcune pensiamo che non saranno mai capaci di fare quello che dicono. Perché? Perché nel tempo della politica tutti fanno delle belle promesse. E così faremo e saremo capaci. Gesù fa tutto, ma non fa il politico, attenzione. Il politico, almeno come siamo abituati noi nei tempi di oggi, non fa promesse di cose facili. Nonostante era una folla, c'era una folla numerosa chi andava con Gesù. Tanti venivano indietro, anche le sue proposte radicali. Attenzione, questa folla non erano quelli che li seguivano. Il Vangelo dice che era una folla numerosa, non di discepoli, ma chi andavano da Lui nella ricerca di qualcosa. E anche ai nostri tempi ci sono tanti che cercano nella Chiesa l'accoglienza. Tante persone, tante volte le motivazioni sono varie. E Gesù accoglie a tutti e ci insegna ad accogliere. La Chiesa deve accogliere tutti. Nonostante se vengono per motivazioni che noi non siamo d'accordo. Forse vengono perché il prete è simpatico, forse perché piacciono l'omelia, forse piace il canto della messa, c'è l'animazione. Non sappiamo, ma tanti cercano in noi, nella Chiesa, qualcosa e dobbiamo accogliere. Però la proposta, subito dopo la proposta, Gesù non rimani solo nell'accoglienza. Gesù intravede il desiderio profondo di quelli che venivano da Lui. E Gesù chiede. Il fondatore della comunità Shalom, Moises, dice una cosa molto interessante. Lui dice così, quando si lavorano con i giovani, se tu chiedi poco, daranno poco. Se chiedi poco, daranno poco. No, se chiedi poco, non daranno nulla. Se tu chiedi molto, daranno poco. E se tu chiedi tutto, daranno tutto. Questa è la logica molto evangelica, molto evangelica. E Gesù chiede tutto. Lui pretende di essere più grande della più grande gioia che possiamo vivere. Gesù è presuntuoso su questo. Lui pretende di essere la più grande gioia. Non esisterà mai nulla più grande di Lui. Più del bene, più dell'affetto, più di tutto. E ci sfida a diventare veramente Suoi discepoli. Fratelli e sorelle, se noi ci fidiamo di Lui, capiamo davvero che la Sua presenza può colmare la nostra vita, orientare, dargli orizzonte, respiro, gioia intima ed infinita. Davvero, vale la pena lasciare tutto e seguire Gesù? Penso che è questo che dobbiamo dire ai giovani, alle persone che vengono in Chiesa cercando accoglienza, che trovano in noi questa certezza. Lui vuole da noi la pienezza. Per questo chiede da noi scelte impegnative. Ecco la proposta di Gesù nel Vangelo di oggi. Sono impegnative. Se uno vieni dietro a me, vieni con me, e non mi ami più del padre, dalla madre, moglie, figli, fratello, sorella, e perfino la propria vita. Se non ami più, non puoi essere il mio discepolo. Attenzione, se contiamo, sono sette elementi, sette elementi che significa totalità nel linguaggio biblico. Significa amare con tutto il cuore, con la totalità della propria esistenza. E attenzione, Luca usa il verbo grego, misèi, che possiamo tradurre come odio, odiare. Vuol dire odiare. E lasciamolo così. Matteo usa un altro verbo quando narra questo Vangelo. Luca usa il verbo misèi. E lasciamolo così perché vuol dire odiare. Cosa vuol dire Gesù? Vuol dire distacco. Distacco. Noi abbiamo molta paura della parola tutto e per sempre, soprattutto i giovani di oggi. Quando parliamo, per questo lasciamo questo verbo così, come dice Gesù, odiare la propria vita. Il distacco radicale delle scelte vuol dire che quando noi siamo discepoli di Gesù, non esiste più il E-E, è il O-O. O-A-M-I. O ami il fratello o fai la scelta radicale o niente, dice Gesù nel Vangelo di oggi. E poi Gesù continua. E avrai la propria croce. Perché? Non saremmo applauditi. Non riceveremo degli applausi quando noi faremo delle scelte radicali. Fate delle scelte radicali. Noi religiosi, cominciamo a fare delle scelte radicali nelle nostre comunità. Quando qualcuno sta parlando male dell'altro, tu dici, oh, dove è l'amore? Dove è la sincerità? Se tu comincerai a fare queste scelte radicali della vita di Gesù, perfino quelli che ci sono più vicini non voleranno, non ti faranno degli applausi. Attenzione, è croce, è croce. E Gesù continua. Continua che questo, questa scelta radicale, lui dà due esempi molto interessanti. che dobbiamo prima fare i calcoli per vedere se riusciamo, riusciamo a fare queste scelte. E lui dà due esempi interessanti. La torre e la guerra. Sappiamo che la torre, in quel periodo del tempo di Gesù, Erode amava costruire delle torri, che vuol dire apparenze, stare in alto, apparire. E poi Gesù dice, calcolate quando andate in guerra, perché è una guerra. non è facile. Non è per scoraggiare che Gesù dice così, fate i calcoli se riuscite. No. Perché poi lui dice subito il prezzo. Il prezzo per riuscirci è rinunciare tutti i suoi avveri. avveri. Torna di nuovo al tema della totalità. Solo se siamo totali. Totalmente possiamo fare delle scelte radicali. Le scelte evangeliche ed essere discepoli di Gesù. E concludo con una storia veloce, ma che ci aiuta molto. Una storia che si racconta anche ai più piccoli. Però racconterò a voi. Si dice che un monaco, un monaco è salito su una montagna a pregare, perché voleva vedere Dio. Forse la motivazione è perché partiamo anche presto per le nostre messe, per l'eucaristia. Perché andiamo? Perché vogliamo stare con Gesù. E questo monaco è andato in montagna, faceva digiuni, e diceva io a Gesù ti voglio incontrare. A un certo punto si avvicina a lui una colomba piccola, una colombina, e dice così a Gesù, al monaco, Monaco, mi puoi salvare? C'è un falco che mi sta cercando per mangiare. Posso nascondermi sotto il tuo saglio? Il monaco non ha pensato due volte. Alzato il saglio, ha fatto entrare la colombina. Dopo due o tre minuti arriva un falco, magro, occhi profondi, camminando piano, e dice Monaco, hai visto passare una colombina, una colomba da queste parti? È il mio unico cibo, se non mangio quella colomba, morirò di fame. E lui, a quel momento, ha dimenticato, ha dimenticato se poteva vedere Gesù o no, e si è fissato ai problemi di quei due. Chi salvare? E ha chiesto al falco, dopo un po' di silenzio, dice senti, se ti faccio mangiare la stessa quantità di carne che ha quella colombina, sei contento. E il falco dice, non mi interessa, voglio mangiare, ho fame. Lui prende una bilancia, tale un pezzo della sua propria carne, mette nella bilancia, dall'altra parte mette la colombina, pesa, non si muove. Tale un altro pezzo, mette nella bilancia, non si muove, e così via. Poi, non c'è altro da fare, si è messo tutto nella bilancia, in quel momento, la bilancia si è alzata, il falco è diventato Gesù che ha detto, adesso mi hai trovato, perché ti sei dato tutto per tutti. Ci auguriamo questo, fratelli e sorelle, il Vangelo è totalità, radicalità. Abbiamo bisogno di fare dei calcoli, sì, ma non è questo che ci aiuterà a riuscirci, ma sì, rinunciare a tutti i nostri averi, darci tutti noi stessi per incontrare e seguire il Maestro Gesù di Nazareth. Amen. Grazie.